di là può essere pure un bacio a tutti si deve mostrare ok non te ne asciugare troppo se vuoi te ne metto un altro po' quindi quello già picchiato abbastanza bene senza retina forse lo picchierei meglio e chiuderei cosa del genere quindi col petto di luce qui luce sul ring luce su barberis che starà qui vai un po' verso la porta dietro di te è proprio una cosa del tipo come se hai un po' che vi stai guardando c'è questo scopettone forse inverti la mano e vanno soffiando l'altra e guarda esatto ma forse lo farei uscire da qua tu vai dentro una diagonale? si come mi vedi questo vuol dire che devi concentrarti soprattutto sul non fare questo ok quindi lo facciamo così non dal motore anche da questa rotella perché tanto è disattivata l'altra volta dovresti fare cosa di questo tipo facciamogli proprio vedereci ok devi partire su questo pugno e azione boom azione non mi dò questa impressione cioè sul jeans devo capire come ammorbidi ma questo è un tanto qui dietro non mi pare che si veda roba abbiamo perso i sacchi da box esatto è bello che poi questo gesto li faccio aprire la scritta questa deve essere un'asse con noi a quel punto quando inizia il movimento deve fintamente sai cosa finto sei naturale ma fai percepire un po' la spalla non entra ok così più stretto sul di lui è una proposta poi giusto esci 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 col cazzotto esci col cazzotto entra questo bello su lui e poi vai entro l'azione è subito ora azione e vieni verso di me ha partito ha partito per me è direzione del favore per me è buona buona azione vai 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 vieni verso il destro vai vieni verso il destro il gancho vai 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 passa tutto il gancho il destro vai gancho vai 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 grazie grazie direzione All'azione rimani fermo, ti do io al momento in me, in tuo momento, ok, Marco posso andare all'azione, movimento ok facciamo l'ultima ok ragazzi l'ultima andiamo avanti grazie in partenza azione movimento ok quindi quando è uscito parti quindi tu datti un secondo 1 2 lui tira quel famoso gancio destro sinistro destro lancio destro tuo così semplice azione la schiena e azione silenzio per favore e azione silenzio per favore ok e azione azione allora troviamo il modo in cui mi posiziono e riesco a prendermi tutto il suo sbotto scusa da qua poi piano piano è gancio qua c'è l'occhiato sul corpo prendo il tuo qua dovresti cercare di guadagnare questa posizione perfetto esatto sulla torsione che lo prendi tutti i fomenti capito quindi è come se prendessi ragazzi ma chi sta inquadrando ok dai forza ragazzi azione 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 ok azione 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 Bene, bene, stop. Il fatto è vuoto prima. Facciamo ancora un passaggio indietro. Così, così. Stai proprio indietro. Ok. Il motore è partito. Carico, questa è azione. Attento al suo corpo, non coprire il suo corpo. Teniamo un po' vestito. Così, così. Grazie. Ferma. Carico. Azione, azione. Movimento. Ok. Vieni! 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 Aspetta. Ok. Ti alzi da destra. Siete a destra. Alza, riguarda le corda e vai. Ma va in collo, ancora! 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 Dopo le primi sei fermo. E rimani fermo poi, così. Poi posso non lo fare più e poi intanto ancora. L'ultimo pezzo aspetta che lui sia arrivato. Non ce la fai più di farlo. Non ce la fai più di farlo. Non ce la fai più di farlo. Vai! Azione! Ancora! 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 Silenzio, per favore. Quando vuoi Marco. Azione!